Se siete degli artisti o dei disegnatori o quantomeno ne seguite qualcuno sicuramente vi sarà capitato di vedere nella vostra home page questa immagine qui Ma che cos'è? Qual è il problema? Sigla e capiamo perché gli artisti di tutto il mondo stanno insorgendo Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Devo ammettere che anche io quando ho visto questa immagine per la prima volta Subito ho pensato all'ennesima polemica sulle IA che ci rubano il lavoro Signora mia dove andremo a finire? L'arte sta morendo Infatti ho anche redarguito chi abbracciava questa causa E devo assolutamente chiedervi scusa perché ora l'abbraccio anche io Infatti di non poco tempo fa la notizia che una IA mid-journey Avesse vinto un concorso d'arte grazie ad un'immagine generata appunto dalla suddetta IA E anche lì le polemiche non si erano risparmiate giustamente Come ho detto pensavo fosse una polemica inerente a quello Ma più mi andavo ad informare sulla vicenda e più la polemica risultava essere controversa Infatti la polemica sorge non sulle intelligenze artificiali Infatti da questo punto di vista l'immagine è completamente forviante Capisco anche chi come me non avesse compreso la vera problematica dietro questa battaglia Ma partiamo dall'inizio e facciamo ordine Dai giorni su vari social come TikTok, Instagram e Twitter Sta spopolando un'app di nome Lenza App di filtri fotografici che grazie alla sua nuova funzione Magic Avatar Ti permette di creare un tot di disegni utilizzando come reference le tue foto E sfruttando per realizzarli l'intelligenza artificiale L'app richiede un abbonamento annuale ma c'è anche una settimana di prova gratuita E una volta caricate dalle 10 alle 20 foto E scegliendo tra uno dei tre piani a disposizione Ovvero 5 euro per 50 immagini 7 euro per 100 immagini 9 euro per 200 immagini L'app come dicevo analizzerà i vostri tratti somatici e le vostre foto Dandovi in cambio dei disegni dei ritratti In centinaia di stili diversi Ma ci sono delle problematiche in tutto ciò E soprattutto sono nate due polemiche Prima spieghiamo a grandi linee come dovrebbe funzionare l'app E capiamo perché non viaggia proprio nel legale E se non nell'illegale Quanto meno non propriamente etico Allora non sono un programmatore Nella mia vita ho programmato solo programmini molto molto semplici in C-Sharp Per questo invito chiunque ne sapesse di più E volesse aggiungere informazioni o volesse correggermi Di scriverlo qui sotto nei commenti E anche voi che state vedendo il video Magari fatevi un giro nei commenti Per vedere se qualcuno magari ha aggiunto o corretto qualcosa che ho detto Ma in soldoni da quello che ho capito dovrebbe funzionare così Ovvero che tramite un database di migliaia di immagini L'app riesca a generare dei ritratti appunto corrispondenti al col medesimo stile, tecnica e quant'altro Ma quali sono le polemiche nate su quest'app? Beh, in soldoni sono due La prima, di cui ci interessa relativamente È che comunque stiamo dando a un ente terzo le nostre foto E non si sa cosa ne farà di quelle foto L'azienda ha garantito che dopo aver creato i suddetti avatar Le foto vengano cancellate dai server E a livello aziendale è anche comprensibile Visto che i server hanno comunque uno spazio limitato Per quanto grande possa essere Ma gli avatar che genera invece Se si accettano i termini e le condizioni Ci viene detto che possono essere riutilizzati Anche a scopo di ricerca e commerciale Quindi loro possono ipoteticamente prendere quelle immagini E farci del merchandising E mi fa un botto ridere l'idea di entrare a casa di qualcuno E trovare sulla parete del soggiorno Un quadro col mio faccione sopra Ma la problemica che ha mobilitato la community arte mondiale E vi assicuro che ArtStation è in base da questi post Si stanno creando campagne di crowdfunding per fermare tutto questo Comunque la problematica risale a come queste immagini vengono generate Lanza infatti si affida ad un database Come dicevamo prima Open source Dell'azienda tedesca LION Acronimo che sta per Large Scale Artificial Intelligence Open Network LION 5B Vuol dire 5 billion È un database che racchiude quasi 6 miliardi di immagini 5,8 dovrebbero essere Materiale messo a disposizione gratuitamente A scopo di ricerca per appunto allenare le IA O senza fini di lucro Quindi Lanza non fa altro che prendere questo database Analizzare le immagini che vi ci sono contenute all'interno E applicare un filtro alla foto che gli avete dato Cercando di ricalcare lo stile dell'immagine di riferimento O almeno così si credeva che funzionasse Ora dove finisce la legalità in tutto questo e dove inizia il plagio? LION è un database a scopo di ricerca senza fini di lucro E fin qui ci sta Giusto per chiarire LION non continua al suo interno delle immagini LION è un'enorme lista di URL e indirizzi web Che riconducono a delle immagini L'unica cosa che fa LION è la possibilità di raggrupparle tutte insieme E di poterle filtrare per categoria, tipologia e quant'altro Il problemino è che alcuni di quegli URL contenuti in LION Riconducono a delle immagini protette da copyright Come i disegni E fin quando la IA si limitava ad ispirarsi semplicemente alle immagini che vedeva Beh la polemica lasciava il tempo che trovava Ma da un paio di giorni hanno cominciato a circolare Delle immagini abbastanza inquietanti Prodotti appunto da questi programmi come Lenza Immagini avatar compresi di firma dell'artista Generati dall'intelligenza artificiale Di cui gli artisti non ne sapevano assolutamente nulla Ma com'è possibile che ci si ritrovi addirittura le firme degli autori originali? Beh da quello che ho letto online Sembra che l'intelligenza artificiale Prenda veri e propri pezzi da disegni esistenti Per dargli poi una coerenza cromatica Ed applicarli poi nei risultati che fornisce Ed è normale che tra quei pezzi che l'IA ruba Ci possono essere anche, non so, parti di sfondo Dove sono presenti anche le firme degli autori Ai miei tempi ti rubavano i disegni e gli cancellavano la firma Ora invece l'IA li prende, li fa nel tuo stile E gli mette anche la tua firma Non so se esserne spaventato o assumerla a tempo indeterminato a questo punto E pensare che qualcuno sta lucrando sugli artisti Perché vi ricordo che l'app è a pagamento Beh mi fa alquanto schifo effettivamente Quindi se l'IA non ha responsabilità Perché effettivamente non fa nulla di male Non ha immagini con copyright Da semplicemente dei URL La responsabilità è della planza Voglio essere buono nel pensare che l'ANSA Non ha colpe se tra quei URL forniti Ci siano anche alcuni che riconducono a delle immagini protette da copyright Quindi a grandi linee Siamo in una vera e propria zona grigia E quelli che ne fanno le spese Sono i poveri artisti che si vedono plagiati i propri disegni Senza neanche che gli venga corrisposto alcun compenso tra l'altro Ma chi dovrebbe risolvere tutto questo? Beh mi viene da pensare che ad intervenire Dovrebbero essere gli enti predisposti Alla protezione intellettuale delle opere Come da noi la CIA È giusto per intenderci Ma da quello che so Quelle aziende marciano su leggi governative Quindi i primi a doversi muovere Dovrebbero essere i vari governi E dovrebbero farlo a livello mondiale So che è un'utopia Ma dovrebbe essere così Perché se anche si facesse una legge Qui in Italia o negli Stati Uniti O in Russia o in Cina Nulla vieterebbe a quegli stati Che non hanno la stessa legge Di utilizzare quel database Perché lì è perfettamente legale E gli artisti si ritroverebbero i propri disegni In congo con la loro firma Senza neanche sapere della loro esistenza E senza che gli venga dato un corrispettivo monetario Non lo so ragazzoli Queste erano tutte le informazioni Che sono riuscito a reperire In merito all'argomento Se voi ne avete altri Fatemele sapere qui sotto nei commenti Ma soprattutto fatemi sapere Cosa ne pensate Pensate che gli artisti stiano esagerando Pensate che bisognerebbe fare una legge Per tutelare gli artisti Non lo so Fatemi sapere quello che volete Qui sotto nei commenti Scrivetemi tutto ciò che pensate Credo che a me la mia posizione sia capita Io vi ringrazio per aver visto questo video Fino alla fine Noi ci vediamo venerdì Per la live Qui su YouTube Dove andremo magari ad approfondire E se ci saranno novità Andremo a parlarne Vi ricordo che in descrizione Trovate il link a Instagram e TikTok Dove troverete altri contenuti E noi ci vediamo venerdì con la live